Ciao ragazzi e benvenuti nella seconda parte del video sulle mode vittoriane. Partiamo subito col periodo che va dal 1870 al 1875. Mentre i vestiti maschili diventavano più eleganti, più scuri e si avvicinavano di più alla divisa borghese, quelli femminili esplodevano di pizzi, merletti, decorazioni e colori. Le donne di questo periodo indossavano un corpino molto aderente. Erano state aggiunte infatti anche delle cuciture posteriori in più. Le maniche erano maniche a pagoda e si aprivano dal gomito in giù. Le gonne, solitamente due, non si riconfiavano più tutto intorno al corpo, ma solo dietro al sedere. Questo era possibile grazie all'utilizzo di una nuova crinolina, ossia una tornur o bastel, una crinolina che veniva messa solamente nel retro del corpo. Se state pensando che è una moda un po' ridicola, non vi preoccupate, alcuni lo pensavano anche all'epoca e le battute sui giornalisti sprecavano. La gonna superiore solitamente era tagliata in tre modi, con il grembiole davanti, legata al corpino senza cucitura in vita, e cioè con il taglio princese, aperta davanti, cucita il corpino sopra come se fosse un soprabbito, e veniva chiamata, in questo caso, polonese. La scoperta da parte degli scienziati di tinte sintetiche facilitò una moda fatta di colori e di decorazioni. Impazzò la moda dei collarini, i capelli diventarono una cascata di boccoli un po' ovunque e i bonnets furono abbandonati in favore di cappellini. La star di questo periodo è senza dubbio Alessandra, principessa del Galles. Potremmo definirla un'antica influencer. Restare alla moda per le donne di quest'epoca fu veramente difficile. Nel giro di pochissimo la silhouette cambiò in maniera drastica. Abbandonato il bustle, i vestiti sembravano molto più allungati, aderenti sui fianchi e alla vita, e portavano quasi sempre uno strascico. I corpini venivano tagliati con un taglio princese, cioè senza cucitura in vita, oppure con un taglio cuirass, cioè a corazza, talmente aderente da sembrare quasi un corsetto. Anche i vestiti di aggiorno, fino al 1878, possedevano uno strascico. Per evitare che si vedessero imperfezioni al di fuori di questi vestiti, anche la biancheria cambiò notevolmente. I corsetti si allungarono, e le chemise e i mutandoni si unirono in un unico indumento chiamato combination, che molte donne di questo periodo cominciavano ad indossare. Questo genere di vestiti veniva tenuto in posizione da dei nostri cuciti all'interno delle gonne, e per questo motivo, che invece di chiamarsi furro, si chiamavano in Inghilterra spesso tie back, ossia allacciati dietro. Ah, attenzione, dal 1878 i vestiti, almeno quelli da giorno, perdono lo strascico. Le maniche in questo periodo sono aderenti, a tre quarti la mattina e fino al gomito di sera, mentre gli abiti da ballo perdono del tutto le maniche. La complessità e la poco praticità di questo tipo di abiti spinge le donne ad indossare cose più semplici e meno aderenti nelle occasioni più informali e con persone più di casa. Nasce così l'abito da te, e il te diventa in questo periodo un evento sociale. Se è vero che le mode ritornano, questo è sicuramente il caso del 1880, che vede una rinascita del bustle. Le donne di questo periodo indossano cappelli particolari che tendono alla verticalità. I corpini sono molto simili al taglio dei decenni precedenti, ancora molto aderenti, ma adesso si impreziosiscono di dettagli come reverse e colletti. Le maniche sono lunghe e aderenti e posizionate più in alto sulle spalle. La gonna viene indossata di nuovo su un bustle, questa volta però cade molto più verticale ed è molto più semplice, nonostante i materiali diventino molto più pesanti. Dal 1885 inoltre il bustle viene spesso inserito direttamente all'interno della gonna, e non è più un pezzo separato dell'abbigliamento. Il corpino Kiras è inizialmente drappeggiato dietro e appunta davanti, per diventare poi, alla fine di questo periodo, appunta sia davanti sia dietro. Spesso vengono indossate delle giacche e delle gonne abbinate. Le giacche a volte vengono messe su delle camicie, altre volte invece posseggono un plastron, ossia un pannello frontale che simula una camicia. Dal 1885 la cuffia delle maniche inizia a gonfiarsi, anticipando un pochino la moda del decennio successivo. Lo stile militare va molto di moda e compaiono un po' ovunque decorazioni in stile ussaro. Fanno faville anche gli accessori in pelliccia, e qualsiasi tipo di mantella o mantellina basata sullo stile maschile dell'epoca. I cappelli, come dicevamo all'inizio, si impreziosiscono e su di essi a volte si possono trovare cesti di frutta, fiori o addirittura uccelli interi impagliati. Sarà per questo che è proprio in questo periodo che nasce la reale società inglese per la salvaguardia degli uccelli? Alcuni di questi, infatti, stavano per estinguersi. Nasce in questo periodo l'Aesthetic Movement. I sostenitori di questo movimento proponevano, al contrario della moda del momento, un abito con una vita meno aderente, maniche a sbuffo e un'ispirazione per raffaellita e medievale. Sostenevano che i vestiti dell'epoca non fossero salutari e che non permettessero alle donne di diventare membri produttivi della società. Per questo proponevano dei vestiti senza corsetti, senza sottogonne e senza sottostrutture che compromettessero una vita attiva delle donne. E siamo infine giunti all'ultimo decennio di moda vittoriana, quello che va dal 1890 agli inizi del 1900. Gli anni che vanno dal 1890 al 1900 sono anni di grande emancipazione femminile. Molte donne iniziano a lavorare, alcune scoprono gli sport all'aria aperta. E per questa ragione anche la moda deve cambiare. L'arrivo dell'elettricità, inoltre, crea un nuovo mercato che non si era mai visto prima, quello dei vestiti ready to wear. La moda base di questo periodo è senza dubbio la blusa più una gonna liscia. Questa era molto aderente ai fianchi e scendeva dritta giù un po' più in larga. Ad evidenziare la vita, che in questo periodo è molto più stretta rispetto a quelli precedenti, ossia il rapporto tra la vita, le spalle e i fianchi è molto diverso, c'erano solitamente delle cinte, degli stringivita e accessori di questo genere. Le imbottiture e le crinoline non sono più molto utilizzate, se non dove la natura manca. Le maniche sono maniche gigot, un po' simili a quelle del 1830. Essi ingrandiscono dal 1890 al 1895, per poi tornare di nuovo a rimpicciolirsi dal 1895 al 1900. Oltre alle bluse, erano ancora di moda i corpini steccati ed anche i bolari corti. Le gonde venivano realizzate con due tagli, quello a teli, con dei teli molto sottili per mantenere la forma, e quelle a ruota, dove l'abbondanza veniva tenuta dietro da delle pieghe invertite. Si indossano ancora vestiti da sera con lo strascico e i colletti diventano molto alti e rigidi in stile medici. Spesso le maniche sono di una stoffa con un colore a contrasto, mentre le gonne spesso hanno alla base una balza tonda o arricciata. Le giacche vengono tagliate con baschina e seguono lo stile maschile. Restano in auge le pellicce, così come anche le cappe e i mantelli, che erano molto più adatte per questo tipo di abbigliamento con le maniche a sbuffo. Come dicevo all'inizio, gli sport, specialmente quelli all'aperto, cominciano ad andare molto di moda anche tra le donne, è per questo che nascono divise apposite come quelle da bicicletta. E siamo giunti alla fine della carrellata di queste mode vittoriane. Quante cose sono cambiate da qui a qui, durante la vita di una sola persona, che comunque è stata una delle regine che ha regnato di più in Inghilterra. Certamente è dopo lei. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un commento per dirmi quale moda vi è piaciuta di più. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!